Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere quest'oggi in studio Federico Dallatorre, Sindaco di Sovramonte, che saluto e ringrazio. Grazie. Ben trovato Sindaco, grazie del tempo che ci dedica per parlare e aggiornare i cittadini sulle tante attività del suo comune. Partiamo da una questione annosa Sindaco, una questione che si trascina ormai da tempo perché in paese c'è un gioiellino, un gioiellino per le persone anziane ma che è chiuso purtroppo. Mi riferisco alla vostra casa di riposo. Si è ormai inaugurata nel 2016, sempre in attesa di essere aperta. Finalmente speriamo di aver trovato la strada giusta. Abbiamo chiesto la trasformazione in due comunità alloggio dell'RSA che ci era stata data a suo tempo. Una comunità alloggio per disabili e una comunità alloggio per anziani parzialmente non autosufficienti. Questa trasformazione garantirebbe una struttura più leggera anche da un punto di vista della gestione del personale. Stiamo aspettando il via libera dagli uffici regionali, sono loro che danno le indicazioni. Il bando è pronto, contiamo di chiudere il tutto per la fine dell'autunno, quindi sotto l'albero dovremmo avere il gestore. Finalmente, vero? Finalmente, ecco. Ci sono stati già interessi da parte di gestioni private, spero che si veramente vadano a buon fine. Anche perché è una struttura nuova di Zecca quella. Assolutamente, mai usata, se non durante il Covid che ci ha aiutato per quanto riguarda la mensa e la distribuzione di pasti per i bambini della scuola media, elementare e dell'asilo. Ma come mai c'è stata questa situazione? Ci faccia un po' di storia, Sindaco? La storia della struttura è un po' ingarbugliata, nel senso che era partita per non autosufficienti, ancora nel 2003. I non autosufficienti, anzi mi scusi, era partita per autosufficienti. Gli autosufficienti nelle nostre zone stanno a casa loro, nel senso che... Con la famiglia, certo. Però si era riuscita a farla partire come finanziamenti perché sotto il termine di centro servizio alla persona, quindi immaginando anche pasti a domicidio, gli ambulatori, eccetera, eccetera, eccetera. Poi quando nel 2016 abbiamo inaugurato la struttura e quindi ci siamo trovati di fronte alla questione della gestione, trovando i diversi partner e parlando anche con l'URSS, arrivando quindi al dunque, fatti i conti, la struttura non sarebbe mai stata in piedi per autosufficienti, perché questi non vanno in struttura e soprattutto è una struttura che comunque annualmente ha dei costi e non è che si possa pensare che l'ente locale, in questo caso il comune, possa soperire al rosso della gestione della struttura, ecco. Non è che tutti i cittadini devono pagare, ecco, perché la struttura stia in piedi. Di conseguenza l'URSS si aveva così indirizzato nel chiedere la trasformazione del centro servizio alla persona in RSA per disabili gravi e gravissimi. Autorizzazione che ci è stata concessa. Poi nel frattempo le due ULS sono state fuse e questa trasformazione in RSA era stata fatta perché l'URSS numero 2 di Feltre non aveva un RSA per disabili gravi e gravissimi, quindi poteva essere il punto di snodo della faccenda. Fuse le ULS, l'URSS numero 1 di Belluno aveva già RSA per disabili gravi e gravissimi. Ci hanno proposto a questo punto i psichiatrici stabilizzati, poi però i numeri non bastano, bisogna anche riempirla a 26 posti la struttura. Quindi è molto capiente, ecco, diciamo così. Per far sì che stia in piedi bisogna che ci siano dentro anche gli ospiti. Di conseguenza alla fine sia sul suggerimento dell'URSS sia sul suggerimento anche di strutture private che abbiamo contattato abbiamo scelto la trasformazione in una struttura più leggera di comunità alloggio che può fornire sia un servizio ai disabili sia può servire a servizio anche delle persone di sovramonte o dei vicini, persone parzialmente non autosufficienti che non ce la fanno a stare a casa ma non sono proprio da casa di riposo completo, quindi da allettati, quindi potrebbero usare la struttura. Una soluzione, una via di mezzo, ecco, anche per cercare quindi essere vicino agli anziani. E soprattutto quello che tendo a precisare è che con questa scelta diventa una struttura leggera per quanto riguarda la gestione sia del personale, che non è un bel momento per trovare il personale, sia per i costi, perché i costi dell'energia stanno andando alle stelle. Certo, lo sappiamo, l'inflazione, insomma, la guerra, la crisi energetica, è un po' tutto. Certo, quindi insomma, chissà che ci sia a breve... Mi auguro che, insomma, la prossima volta che vengo qua posso dire c'è il gestore un bel regalo di Natale ai sovramontini, ma soprattutto a tutta la US bellunese, perché... Adesso cambiamo argomento, parliamo dei lavori pubblici, che anche questa, insomma, è una fetta, un tema che interessa sempre molto i cittadini e l'amministrazione pubblica. Cosa bolle in pentola, Sindaco? È un anno particolare, siamo attraversati, ma quasi ormai finita l'interamento della fibra ottica, che raggiungerà tutte le case e lo Stato ha finanziato attraverso bandi europei la parte pubblica fino al confine di proprietà. Poi da lì alla casa dovrebbe intervenire il privato se vuole allacciarsi. Certo che è una di quelle cose un po' l'italiana, perché il comune di Sovramonte, negli ultimi cinque anni, era già stato servito in tutte le frazioni, in tutte, dico, attraverso le linee telefoniche. Quindi attraverso tutte le linee telefoniche si poteva andare tranquillamente in internet veloce. Lo Stato attraverso questo bando per i comuni, chiamiamoli così, svantaggiati da un punto di vista commerciale, ci fa anche la fibra ottica proprio in cavo. Ecco, quindi se si parlassero gli enti forse eviterebbero doppioni. Però insomma ormai accogliamo quello che c'è. Finalmente dopo il problema della partenza della guerra e il problema della rivisitazione di prezzi, perché tra il Covid e la guerra veramente hanno stravolto i prezzi dei lavori pubblici, siamo riusciti a far partire l'allargamento sulla SP473, che stanno lavorando proprio in questi giorni, permetterà di allargare a 7 metri una strettoia lunga circa 100 metri, che è un bel biglietto da visita anche come ingresso al capoluogo dalla parte del passo Crocedaune. Nello stesso tempo però il fondo messo a disposizione, che era un'annualità da 500.000 euro, non basta perché a causa dell'aumento di prezzi, però ci siamo impegnati anche a fare il secondo straggio subito, che sarebbe stata la quota che l'aumento di prezzi non ha permesso di mandare in appalto. Se riusciamo veramente viene fuori un bel allargamento e un bel biglietto da visita. Nello stesso tempo abbiamo anche pensato, sempre con fondi dei canoni idrici, che servono per la manutenzione delle strade silvopastorali, oltre che la manutenzione del territorio, di mettere mano a quella che per noi è il tratto storico della via Claudia Augusta. Faremo una manutenzione straordinaria, andrà bene anche da un punto di vista sicuramente turistico, perché finiti questi lavori, sono circa 80.000 euro di contributo, sarà anche tabellata da un punto di vista storico, non solo la semplice tabella, ma sarà anche il racconto di che cos'era la via Claudia Augusta Altinate e i ritrovamenti che sono stati fatti. Ecco, è un pezzo, un bel pezzo, va da Aune fino a Col de Mique, dove c'è l'antica torre, il ristoro che ha il parco nazionale dentro i nostri confini. Diventa carreggiabile sia dal punto di vista delle macchine, sia dal punto di vista anche delle biciclette, quindi veramente un bel, come si può dire, un bel offerto a turisti. Certo, sappiamo anche il cicloturismo sta prendendo sempre più piede. E tra i lavori pubblici a maggio c'è stata l'inaugurazione della vostra palestra, anche quello è un gioiellino. Quello è veramente un gioiellino, poi internamente è veramente funzionale, bella, accattivante, luminosa, colorata. Fuori piace o non piace, ma io ho detto ai cittadini, anche il Bobur in centro a Parigi piace o non piace, però fa milioni di turisti all'anno, quindi insomma sono quelle strutture un po' particolari, ecco, che può piacere o non piacere. Sicuramente è stato un bel traguardo, perché la storia della palestra è una storia che va dal 2011, anno in cui ci sono stati assegnati finanziamenti, ed è stata inaugurata il 25 maggio 2023. La so tutta la storia, perché il sindaco è sempre stato lo stesso, ma veramente è stata una cosa. Ed è l'esempio che non è sempre vero che gli uffici anche di altre province, in questo caso anche le province autonome, perché ce l'hanno fatta loro, sono più veloci di noi. Il problema non sono gli uffici, è la burocrazia. Che è quello che affossa l'Italia, vero? E questo edificio è stato l'esempio plateale che pur avendo le risorse siamo in due mondi diversi da un punto di vista legislativo tra le province autonome e noi che facciamo parte di una regione a statuto ordinario. Di conseguenza la burocrazia ha rallentato tantissimo, non abbiamo mai avuto problemi di soldi, perché i soldi sono sempre bastati. Comunque adesso la palestra è inaugurata, bella, funzionale. Per i giovani, anche per chi fa attività. Sì, come avevo già espresso in passato, la palestra era nata sia a livello scolastico, sia per attività culturali, ricreative, della cittadinanza, sia anche in caso di protezione civile. Quindi adesso sovramonte può vantarsi di avere un edificio che dovesse mai succedere qualcosa è a prova di bomba, chiamiamola così. Questo è importante da sottolineare. Senta Sindaco il suo, è un territorio dove ci sono anche molti che hanno la seconda casa, sono molte persone che vengono da fuori, così? Sì, noi abbiamo 750 prime case e 750 seconde case. Ecco, un paese spaccato a metà praticamente. Spaccato a metà, sia da un punto di vista dell'urbanistica, ma anche delle tasse. Cioè 750 seconde case pagano per 750 addetti alle tasse. E' un problema da un certo punto di vista, perché la seconda casa va benissimo se uno la usa, viene, le spende nel territorio, eccetera. Non va benissimo se la seconda casa rimane chiusa e non viene affittata. Ecco, quello è il grande nodo. Non ci sono alloggi, è sufficienza. Dico sempre, tenete chiusa una seconda casa che magari è bellissima, pagate le tasse, perché dovete pagarle, e soprattutto adesso con l'Atari le seconde case prendono una bella stangata, perché ci siamo adeguati a quello che fanno gli altri comuni, che sono con Valpe, ok? Eppure non si affitta. L'unica novità del territorio è la messa in circolo delle baite. Questo sì è stata una novità. Negli ultimi due anni molti hanno dato le baite a queste società del nord Europa che affittano e è una bella cosa, perché non viene solo quello italiano a fare le ferie, ma viene quello dalla Limarca, viene quello dalla Germania, eccetera, eccetera. Quindi è un bel motivo di promozione territoriale. Certo, un circolo. Però il problema degli alloggi carenti, insomma, che sappiamo... Assolutamente. C'è un po' in tutta la provincia, ecco, non è una cosa... Io penso di non essere il caso Sbelli per primo, penso che tanti altri comuni siano nelle mie situazioni. E non riusciamo mica a sbloccare questa situazione, mentre di là del confine la seconda casa diventa un modo anche per guadagnare, di là dico nelle province autonome, qua da noi si tiene chiuso piuttosto di affittare. Si tiene chiuso piuttosto di affittare. Quindi è un fattore un po' culturale, lei dice quasi. Sì, ma il problema è che poi vengono da noi amministratori a dirci, ma perché avete le tasse così elevate? Ma allora io rispondo, ma perché voi non affittate queste benedette seconde case? È un bel botta e risposta, Sindaco. Senta, dato che stiamo parlando anche di turismo, ci sono le manifestazioni naturalmente in questo periodo che animano comunque la vita delle comunità locali. Sì, l'estate è il non plus ultra dell'anno sovramontino, fra pochi giorni avremo una delle tre manifestazioni più grosse che è quella legata alla pesce, si chiama Le Dolomiti sposano il mare e sono tre giorni di specialità enogastronomiche legate proprio alla preparazione del pesce, venerdì, sabato e domenica della prossima settimana, quindi il 21, 22, 23 di luglio. Ecco, e quindi diciamo si punta molto sul fattore dei prodotti tipici, della gastronomia, ma anche dell'incontro fra realtà differenti. Sì, quando 28 anni fa sono partiti con questa manifestazione hanno cercato di trovare qualcosa che forse è diverso dalle altre, perché in provincia di Belluno tutti vanno a mangiare salsicce, la griglia, braciola, ma perché non portare invece il pesce in montagna? E quindi hanno fatto questo gemellaggio con la città di Caorle. Allora se prima del Covid era Caorle in montagna, adesso è diventato Le Dolomiti sposano il mare, visto che Le Dolomiti è diventato patrimonio Unesco, è diventato quindi un nuovo brand per accattivare ancora di più la manifestazione. E poi invece dal punto di vista turistico quali sono gli elementi sui quali maggiormente richiamate l'attenzione? Allora, noi con questa terza mia amministrazione abbiamo puntato adesso sui sentieri. sentieri, ci carichiamo come comune la pulizia di un sentiero per frazione, quindi 5 sentieri, non brevi, anche lunghi e di diverse difficoltà, oltre alla manutenzione delle strade così chiamate silvopastorali che possono essere usate da chi va in mountain bike. Diventa un ottimo ritorno, lo dovevo dire perché la gente prima ci scriveva che il sentiero è bello ma non è pulito, invece così trovano veramente dei sentieri puliti. è un bel ritorno per il territorio. Prima l'amministrazione se ne occupava attraverso il volontariato, però il volontariato è bravissimo ai tempi che ha il volontariato, invece così si è standardizzata una situazione, loro sanno che l'amministrazione passa una volta sicuramente per ognuno di questi sentieri e dove c'è bisogno anche due volte. Ed è un bel ritorno perché altrimenti il volontariato ti fa un'uscita, la seconda già fa più fatica, ma giustamente è il tempo di chi, insomma, non è mica sul lavoro. Certo. Ecco, e questo dal punto di vista dell'offerta, oltre ad aver già iniziato a far visitare il sito di Varrosna, il museo non è ancora inaugurato, inaugureremo prossimamente, però il sito abbiamo iniziato il 2 luglio, giù a Varrosna. Abbiamo ospitato una manifestazione di macchine storiche e abbiamo fatto la prima visita del sito sistemato. Devo dire che è stato veramente un bagno di orgoglio, di emozione. Quindi l'estate 2023 è partita l'insegna delle novità. No, no, è partita veramente bene, bene. Allora, la prossima volta ci deve riaggiornare sul sito di Varrosna e poi anche sulle case di riposo. Io mi auguro che sull'RSA arrivare e dire ho il gestore, si apre. Sul museo invece penso che quando ci rivedremo sarò pronto per dire venite a inaugurare il museo. Benissimo. Grazie Sindaco naturalmente per la sua disponibilità. Buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie mille. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.